Musica Allora, buonasera a tutti, come abbiamo anticipato, tra poco assisteremo a una brevissima esibizione di yoga creativo, proposta dall'associazione sportiva famosa, che letteralmente significa fantasia, movimento e salute. Lo yoga creativo non è altro che un metodo nuovo di praticare lo yoga, con una tecnica più dinamica e quindi sostanzialmente anche più vicina alla nostra cultura occidentale, pur ovviamente lasciando inalterati quelli che sono i benefici curativi di questa disciplina, possiamo dire millenaria. La parte che vedrete tra poco è la parte più creativa, più coreografica possiamo chiamarla del nostro programma e a proporvela saranno appunto istruttori e assistenti istruttori di yoga creativo. Adesso vediamo se sono pronte la ragazza del mio, eh? Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.